Allarme della Filt CGL Abruzzo per la mancanza di personale ARPA, detto alla guida pur a pochi giorni dalla riapertura delle scuole. Nessuna programmazione per sostituire gli oltre 100 autisti post in quiescenza, dice il segretario di settore Franco Rolandi. Secondo il sindacato, in ARPA vi è un'assoluta incertezza sull'effettiva capacità di poter garantire tutti i servizi regionali, con particolare riferimento a quelli scolastici, nonostante la presenza di una serie di elementi, quali l'insostenibilità degli attuali livelli di prestazioni straordinarie e la necessità, imposta dalla normativa vigente, di dover abbattere il monte ferie residuo consentendo al personale la regolare fruizione delle stesse. La Filt CGL pone il dubbio che l'attesa dell'azienda miri ad aumentare i livelli emergenziali per intervenire con assunzioni discrezionali rinunciando agli incentivi statali. 650 euro mensili corrispondenti al 33% della retribuzione lorda per un periodo di 18 mesi alle imprese che faranno assunzioni con contratti a tempo indeterminato per under 29 e ultra 50 anni.